Buongiorno, buon venerdì mattina, benvenuti a Transatlantico, il talk della verità digitale in collaborazione con Utopia e con gli Utopia Studios che ci ospitano e che ringrazio. Come ringrazio i nostri ospiti di oggi che sono entrambi in collegamento e sono entrambi membri della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Per Forza Italia l'onorevole Carlo Giacometto, buongiorno onorevole. Buongiorno. E il gruppo misto, già sottosegretario all'economia in precedenti compagini governative, l'onorevole Alessio Villarosa che pure saluto. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, ci muoveremo un po' tra manovra, delega fiscale, il cui testo è arrivato alle Camere l'altra notte. Prima però una domanda un po' politicamente scorretta ad entrambi. Rispetto all'avvio della discussione pubblica, non ancora parlamentare, sulla manovra, sembra esserci una grande prevalenza della discussione sulle pensioni rispetto alla discussione fiscale. Ora, non vi interpello per il momento sui dettagli della questione pensionistica, come finirà quota 102, 101, 103, in questa giungla di soluzioni possibili. Ma vi domando, non vi pare che ci sia un eccesso di attenzione alla parte previdenziale e invece troppo poca attenzione alla parte fiscale? Grazie per l'invito, Daniele, grazie alla verità per questa occasione. Io credo che il tema fiscale sia un elemento centrale, soprattutto in un momento in cui il nostro Paese ha la necessità di intercettare una ripresa che è iniziata. Gli indicatori, certamente figli di un rimbalzo rispetto all'anno 2020, molto negativo, ma comunque ci danno un tasso di crescita per il 2021 al 6%, dice il documento programmatico di bilancio 2022. Quindi c'è la necessità, secondo me, di accompagnare questa ripresa che c'è con adeguati strumenti e tra gli adeguati strumenti c'è certamente il tema fiscale. Anch'io credo che il dibattito intorno alle pensioni si è forse messo in primo piano rispetto al tema fiscale non in maniera così corretta, perché certamente c'è un problema, certamente c'è un tema di equità rispetto alle future generazioni che deve essere in qualche modo affrontato, ma certamente il tema fiscale oggi è un tema centrale, perché noi siamo un Paese che ha una pressione fiscale non più sostenibile rispetto ad altri concorrenti, Paesi anche dell'Unione Europea e quindi credo che gli investitori abbiano la necessità di avere un quadro fiscale maggiormente definito e maggiormente incentivante agli investimenti e quindi poi in ultima analisi alla crescita del valore aggiunto e dell'occupazione. Grazie. La stessa domanda per l'onorevole Villarosa. La vede anche lei o no questa asimmetria tra l'attenzione alle pensioni altissima e quella ai tagli di tasse molto scarsi? La vedo e come, ma credo sia chiaro. Purtroppo da quando sono in Parlamento mi sono reso conto che i media e il mainstream comunque tende a concentrarsi su ciò che è più comunicativo e più facile e possa creare dei problemi ai partiti. Ricordiamo che la riforma fiscale, la riduzione delle tasse sul fisco non è una proposta di un partito in particolare ma è una proposta che bene o male puoi trovare su qualsiasi programma di ogni partito che si presenta alle elezioni e poi quasi nessuno lo riesce a fare o lo fa sempre in minima parte. Mentre per quanto riguarda le pensioni siccome piace molto al giornalismo, alla stampa, piace molto toccare i partiti e metterli in difficoltà, la riforma delle pensioni quota 100 è frutto di un programma di due partiti importanti all'interno del Parlamento. Quindi visto che in questo momento si stanno smontando delle promesse fatte dai partiti, dai cittadini e agli elettori, probabilmente l'attenzione viene concentrata sulle pensioni per questo motivo, anche se nella sostanza è molto importante introdurre una riforma fiscale che però riduca veramente le tasse, non come farà questa delega fiscale purtroppo. E allora arriviamo proprio, poi arriviamo alla delega. Prendiamo il lato della manovra. Secondo le anticipazioni, prendo proprio l'ultima parte del ragionamento dell'Oreole Villarosa e lo rilancio ad entrambi. Secondo tutte le anticipazioni, la proposta di taglio fiscale sarebbe di 7-8 miliardi. In prima battuta si è detto per il cuneo fiscale, in seconda battuta si è ipotizzato, poi capiremo meglio come andranno le cose, no, si faccia un fondo e poi sarà il Parlamento a stabilire dove mettere questo intervento. Ma io vi interrogo sul quantum, 7-8 miliardi e acqua fresca. Quando Prodi fece un taglio del cuneo fiscale di 7-8 miliardi e dal suo punto di vista lo valorizzò molto eccetera, non se ne accorse nessuno. Quando Renzi anni dopo con altro strumento, gli 80 euro, fece un intervento da 10 miliardi, anche quello fu impercettibile. Non avete la sensazione che stiamo parlando di ordini di grandezza troppo piccoli perché ci sia un beneficio per l'economia? Onorevole Giacometto. Assolutamente sì. Credo che intanto si debba ragionare su questa cifra perché noi proponiamo di aumentare almeno 11, l'abbiamo fatto ieri con le dichiarazioni dei nostri leader nazionali, ma credo che anche 11 sia un numero non così sufficiente ad operare un vero shock fiscale che sarebbe utile a davvero consolidare poi una ripresa economica anche nei prossimi anni per non tornare a crescere dello zero virgola come è successo nel periodo antecedente alla pandemia. Quindi è un numero assolutamente insufficiente, quindi c'è la necessità di definire poi meglio dove andranno queste riduzioni fiscali perché anche al momento non si sa se sia cuneo fiscale, se sia appunto un fondo indistinto dal quale beneficiare poi per ridurre le tasse non si sa bene a quali categorie, quindi leggerei i documenti e poi faremo le valutazioni. Onorevole Villarosa, stesso tema anche a lei sul quantum. Si può fare qualcosa per irrobustire quella che altrimenti è un po' un trattamento omeopatico, a piccolissime dosi. Lei è stato Presidente della Commissione Finanze quindi sicuramente i numeri se li ricorda bene, purtroppo non bisogna raccontare fesserie ai cittadini, fatemi passare questo termine. Quando si parla di riforma fiscale, allora comunichiamo che è una riforma fiscale, non parliamo di riduzione delle tasse perché se noi ci facciamo due conti, parlavo proprio di numeri, lei se li ricorderà. Se non sbaglio l'IRAP vale circa, l'IRAP privata, quindi levando quella delle pubbliche amministrazioni che è una partita di giro, circa 12 miliardi di euro. Qua stiamo parlando di 8 miliardi di euro e si sta parlando che con 8 miliardi di euro si vuole cancellare l'IRAP, si vuole ridurre l'IRES, si vuole ridurre l'IRPEF, però già solo l'IRAP vale 12 miliardi di euro. Se ci mettiamo l'IRPEF si arriva a circa 200 miliardi di euro. Quindi con 8 miliardi di euro si possono fare degli interventi, ma non si può mai e poi mai andare in TV, andare in Parlamento e raccontare agli elettori fuori che ridurremo le tasse, perché l'impatto con 8 miliardi sarà minimo. Tra l'altro su questi 8 miliardi, se non sbaglio, mezzo miliardo va via per la riforma dell'Aggio, che tra l'altro non è una riforma che vuole il governo, ma è una riforma richiesta dalla parte costituzionale perché c'è una sentenza e se non sbaglio un altro miliardo va per altre poste. Quindi non sono neanche 8 miliardi, sono molto meno. Ecco, ma allora l'uovo di Colombo ci sarebbe. Questa manovra cuberà complessivamente 25 miliardi. Se la sentirà il Parlamento di cambiare il dosaggio e dire sai cosa c'è? Una serie di misure non le rifinanziamo, magari sul reddito di cittadinanza 8,8 miliardi sono troppi. Sai cosa facciamo? Anziché fare un taglio fiscale da 7, da 8, lo facciamo da 15, da 16. È fantascienza? Onorevole Villarosa, partiamo da lei. È fantascienza per chi conosce il Parlamento. Lei lo conosce, il Parlamento. E quindi sa bene che poi quando arriva la legge di bilancio, ed è questo è anche giusto perché il governo non è che può fare quello che vuole, arriva in Parlamento, presenta la sua legge di bilancio e il parlamentare non ha la possibilità di mettere in piedi una norma e di avere delle risorse per poter stanziare appunto delle risorse sulle norme che preferisce portare a termine. Però purtroppo alla fine su questi 25 miliardi come capita ogni anno per 900 parlamentari rimarrà un miliardo, un miliardo e mezzo. Quindi non credo che la forza sia così, ci sia una forza così importante da poter modificare la legge di bilancio. Si potrà aumentare di un miliardo, due miliardi, tre miliardi, non credo si possa andare oltre. Onorevole Giacometto, ci proverete a alzare non di poco, ma insomma a cambiare l'equilibrio interno della manovra in modo più significativo o anche lei è pessimista come l'onorevole Villarosa? Guardi, io non vorrei essere pessimista, ma vedo il contesto e cioè quello di un governo di unità nazionale, chiamiamolo così, in cui ci sono partiti che hanno orientamenti e sensibilità diverse sul tema del taglio delle tasse. Abbiamo un partito statalista come il Partito Democratico che presidia quei ormai mille miliardi, leggevo il consuntivo 2020 del costo del nostro Stato, in maniera feroce e ci sono altri partiti come il mio partito, come Forza Italia, che da sempre hanno fatto del taglio delle tasse la loro, diciamo, cifra. Quindi la vedo complessa sinceramente, ma credo che noi non rinunceremo a porre il tema e a cercare di superare quel tetto di 8 miliardi che è stato indicato per fare in modo che il taglio delle tasse sia più significativo. Poi andremo a vedere anche dove, perché noi dovremmo avere un focus per esempio sul lavoro autonomo, anziché sul cuneo fiscale, su alcune categorie di lavoratori dipendenti. Allora, riprendiamo il tema di metodo del rapporto fra governo e Parlamento da un altro lato, dal lato della delega fiscale. Poi ritorneremo sulla manovra per un altro aspetto. Io però qui ho una curiosità, voi siete politici avveduti, aiutatemi a capire. Dentro la delega fiscale il governo, l'abbiamo visto l'altra notte col testo definitivo depositato alle camere, ha infilato la riforma del catastro che suscita tante preoccupazioni, non per un aumento di tasse domani mattina, ma per il rischio, parliamoci chiaro, che nella prossima legislatura si dia una pistola carica al prossimo governo. Ma non voglio interpellarvi sul merito, poi naturalmente direte quello che vorrete. Vi chiedo però, Movimento 5 Stelle aveva detto, non mettete la riforma del catastro. Forza Italia aveva detto, non mettete la riforma del catastro. La Lega aveva detto, non mettete la riforma del catastro. Renzi aveva detto, non mettete la riforma del catastro. Da fuori, Fratelli Italia aveva detto, non mettete la riforma del catastro. Ma allora il governo a chi risponde se mette la riforma del catastro? Che incredibile. Eh, onorevole Villarosa, dice, è incredibile, è articolo. No, è incredibile perché proprio ieri ho fatto un video sulla mia pagina Facebook in cui raccontavo come i partiti stanno perdendo tutte le loro battaglie più importanti messe in piede in questi anni. Perché in questo governo Draghi va dritto per la sua strada, ha degli obiettivi, ha delle cose da mettere in piedi e a prescindere dal danno che può fare ai partiti, lui va avanti. E questo qui di cui sta parlando lei è l'ultimo esempio di una serie, quota 100 è un altro esempio, il Movimento 5 Stelle, il Superbonus, il Cashback, il reddito di cittadinanza. Questo governo a quanto pare va dritto per la sua strada e se ne frega di quello che i partiti poi hanno bisogno di portare ai loro elettori. Sullo stesso tema, onorevole Giacometto, lei che spiegazione dà di questa cosa? A tutti, da una parte il governo invece... Mi tocca un compito in grado, difendere il governo. No, a parte gli scherzi, credo che la rassicurazione che è prevista all'articolo 6, secondo comma lettera A, che prevede che le informazioni rilevate secondo i principi di cui è il presente comma, che è quello della delega fiscale, non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi, la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e comunque per finalità fiscali, sia una rassicurazione dal punto di vista dell'aumento delle tasse importanti. Dopodiché c'è un tema del catasto e della fiscalità immobiliare che è cogente in Italia, perché in Italia oggi 42 miliardi derivano a vario titolo dal mercato immobiliare, dal patrimonio immobiliare degli italiani e quindi anche io sono preoccupato rispetto al fatto che si sia una pistola puntata, carica puntata ai risparmiatori, in questo caso risparmiatori sul mercato immobiliare al prossimo governo. Spero che il prossimo governo abbia la sensibilità che abbiamo noi, cioè quella di andarle a ridurre le tasse e non di aumentarle. Domanda di controprova, però le due commissioni finanze, quella della Camera di cui siete autorevoli membri e quella del Senato, in un lavoro congiunto pregevole, un'indagine conoscitiva che avete concluso di fatto a giugno o luglio scorso, nel documento finale avevate deciso, credo quasi all'unanimità di espungere il tema del catastro. Allora vi domando, poiché il tema della delega è un tema in cui il Parlamento dovrebbe essere dominus, sì ok c'è un disegno di legge governativo, ma poi viva Dio la delega è il Parlamento che la dà al governo e attenzione avete un solo colpo da sparare perché poi una volta che la delega sarà stata data quelli fanno i decreti delegati e le commissioni possono solo dare un parere, quindi possono dire che peccato non mi piace tanto, ma siete pronti a presentare un emendamento per lo stralcio del catastro, cioè per dire guarda noi avevamo detto al governo di non mettercela, tu l'hai messa e noi lo rimettiamo fuori, onorevole Villarosa. Ah sì assolutamente sì, più che altro è un discorso quello sul catastro che stiamo cercando di affrontare da anni, se c'è il problema di mettere, diciamo la sicurezza di mettere all'interno della delega che non ci sarà, che sarà, non ci toccherà la parte fiscale, comunque non ci rassicura perché come diceva l'onorevole Giacometto ci può, può accadere più in là e comunque sarà impossibile stabilire, soprattutto per le commissioni parlamentari perché come dice bene lei, Capezzone, non avremo tempo, abbiamo, tra l'altro può anche essere stravolta la legge delega e si hanno dieci giorni di tempo per poter eventualmente intervenire, se no il governo può anche stravolgere e può andare anche oltre la delega, quindi sinceramente faremo battaglia e presenteremo tutti gli emendamenti che serviranno per evitare dei rischi futuri che oggi sarà impossibile calcolare perché l'impatto poi, come è accaduto con la Fornero, con gli esodati, scapita spesso che con molte norme tu oggi vai a stimare, la ragioneria va a stimare un impatto e poi nella realtà ti ritrovi con un impatto diverso e magari maggiore tasse appunto per i cittadini. Onorevole Giacometto, è chiaro che la sua posizione è più delicata, lei è membro di una maggioranza politica, di un governo, quindi non è facile per un rappresentante della maggioranza direi domani mattina presentiamo, però le chiedo in modo rispettoso rispetto al governo, però un arco di forze parlamentari può con dignità dire scusa questo tema avevamo detto di metterlo fuori, la tua garanzia governo è che non c'è aumento adesso ma non puoi garantire dal 2026 perché una volta che hai modificato la base imponibile anche se l'alliquota resta la stessa, poi la bastonata ulteriore arriva, c'è spazio secondo lei per lavorare a uno stralcio senza polemica ma magari con un vuoto larghissimo parlamentare. Io credo che ci sia questo spazio e credo che i partiti del centro-destra di governo dovrebbero farsi interpreti di questa battaglia, dopodiché non esclude evidentemente questa battaglia il fatto che in futuro si possano aumentare ancora le tasse sul patrimonio che per me è una modalità inaccettabile evidentemente, il governo Monti vi ricorderete fu quello che inondò di tasse patrimoniali sugli immobili gli italiani e lo fece con una legge ordinaria sostanzialmente, modificando poi i parametri quindi introducendo l'Imu sulla prima casa che poi venne tolta dal governo Renzi, ritolta perché fu tolta la prima volta, lì ci vi ricorderete dal governo Berlusconi, per cui credo che questa battaglia le forze di centro-destra attualmente al governo possano e debbano farla. Penultima questione, restiamo sul tema immobiliare però in questo caso non legato alla delega, catasto, ma legato alla manovra, ecco bonus. Ah, quella era una misura che era partita male ma poi dopo una correzione stava cominciando a funzionare benissimo, tutti dicono tira, la cosa funziona, c'è un po' di ripresa di attività nell'edilizia eccetera. Si arriva al momento di decidere come proroghiare e si dice sì sì, proroghiamo anche oltre il 23 ma non le facciate, non le case unifamiliari. Un po' di protesta e di stupore perché anche qui praticamente tutti i partiti avevano invece detto al governo no no, portala avanti tutta quest'operazione. Adesso, nelle ultime 36 ore, la solita mediazione all'italiana, due vongole, due cozze, dice sì, anche per le case unifamiliari però con l'isee fino a 25 mila euro. Ma allora, questa misura la vogliamo far funzionare o no? Anche qui vi chiedo, ma è possibile che il Parlamento su una materia su cui c'è boh, il 90-95% di consenso accetterà? E' proprio questo, che la vogliamo tutti. Io poi ho lavorato in particolar modo sulla parte della cessione, ci lavoravo già nella scorsa legislatura, sicuramente si ricorderà, quindi ci tengo tantissimo. E oggi che questo prodotto sta partendo e sta salvando il mercato dell'edilizia, che tra l'altro il mercato dell'edilizia salva tutti gli altri comparti, perché c'è una crisi sui prezzi dei materiali e provate ad immaginare cosa sarebbe accaduto a questo mercato con una crisi dei prezzi dei materiali, si arriva addirittura, perché voi parlate di unifamiliari che hanno introdotto, cioè è passato il messaggio, che hanno sistemato un po' il super bonus perché hanno inserito le villette sotto i 25 mila euro, le unità immobiliari, ma ci stiamo dimenticando una fetta enorme del mercato italiano, che sono le abitazioni da due a quattro, che rimarranno escluse dalla proroga. Quindi sinceramente capire come mai uno strumento che la LUIS stima si ripaghi da solo non venga approvato così com'è da questo governo. Io spero che forse tale, qualche altra parte della maggioranza riesca a convincere il governo per fargli fare una proroga completa. Onorevole Giacometto, se ne può parlare? Condivido assolutamente, credo che si tratti di una misura che sta dimostrando adesso, perché in effetti difficoltà iniziali ce ne sono state a farla partire, ma oggi sta dimostrando di poter funzionare non solo il 110, ma anche il bonus facciate, di cui tanti mi parlano in questi giorni, che debba essere prorogato. Queste misure, dicevo, devono avere una loro continuità e una loro sicurezza per rendere al 100% e quindi consentire di far ripartire un mercato dell'idizia, che poi è prettamente un mercato, un'economia interna che in qualche modo dà i suoi benefici sul territorio. Pertanto noi la battaglia la faremo, perché l'abbiamo detto anche questo ieri, riteniamo che una proroga di almeno tre anni debba essere fatta, perché è uno strumento che funziona, uno strumento che può ripagarsi perché genera un ciclo economico molto positivo. Quindi convergenze possibili per un verso sul fronte catastro, per altro verso sul fronte dell'eco bonus. Vediamo se c'è convergenza sull'ultimo tema che volevo proporvi, che è un po' una piccola ossessione di questo programma, che è quello della riscossione fiscale. Allora, primo settembre ripartite le cartelle che stanno arrivando, poi l'agenzia dell'entrata dice no, ma ne mandiamo di meno, però partone, chi le riceve non è contento. Le scadenze killer 15 settembre, 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, la scadenza monstra del 30 novembre, data che è pure quella dell'acconto dell'anno nuovo. Poi il 16 novembre c'hai anche la rata trimestrale come partita IVA. È evidente che tantissimi non ce la faranno. Nei corridoi tutti ti dicono, le scadenze resteranno, vediamo chi ce la fa a pagare e poi a margine della manovra si farà qualcosa, rottamazioni. Si può immaginare una cosa seria anziché non una cosa abborracciata all'ultimo istante? Si può ragionare, vi faccio una provocazione, su una cosa del tipo, ok, non ti impicchiamo una rateizzazione spalmata non su 120 giorni ma su 120 mesi, su 10 anni, riprendi a pagare, l'erario avrà le sue certezze, ma la tua famiglia, la tua impresa non viene fatta a pezzi. Non è quello di la rosa. C'erano varie proposte di legge e risoluzioni in Commissione Finanze mentre ero sottosegretario e le ho appoggiate tutte. Anche di Forza Italia, ora non ricordo esattamente il deputato Martino. Martino, perfetto. Le ho appoggiate perché effettivamente è questo quello che bisogna portare avanti capendo il momento di crisi attuale. Però già è stato difficile farlo con un governo formato da due forze come il Movimento 5 Stelle e la Lega e il Movimento 5 Stelle e il PD. Quindi credo che farlo in un governo con una maggioranza così ampia sarà molto complicato. Oregolo e Giacometto? Sì, si deve immaginare perché l'enorme magazzino fiscale di cui una gran parte probabilmente inesigibile è un problema che deve essere risolto una volta per tutte. Io credo che la soluzione sia davvero quella che propone lei, quella di allungare il più possibile la possibilità alle persone di rimettersi in gioco. Quelle evidentemente che sono in grado di farlo e che sono in grado di continuare ad esempio la loro attività imprenditoriale. Perché la nostra ossessione deve essere quella di avere tante persone che producono prodotto interno lordo, quindi occupazione e quindi valore aggiunto per il nostro Paese. Quindi si deve andare in quella direzione e io sono totalmente favorevole. Siete stati straordinariamente precisi e chiari nell'esprimere le vostre opinioni e anche il vostro auspicio. Vi chiedo però un pronostico. Beh, ma su questa materia c'è anche qui la capacità del Parlamento di giocare d'anticipo in sede di discussione della manovra e scrivere una norma fatta bene? Oppure si attende passivamente che magari il 18 dicembre all'ultimo passaggio della manovra arriva il maxi emendamento del governo, una mini rottamazione nel maxi emendamento, un cerottino e via. Qual è dei due il pronostico giusto? Quello migliore o quello peggiore? Vista l'esperienza anche di governo per due mandati, purtroppo l'impressione che essendo sempre la coperta molto corta si arriverà dopo una lunga discussione, dibattito e richieste di poverosi parlamentari e partiti all'ultimo momento. Oregole Giacometto? Io confido nel coordinamento tra i ministri di Forza Italia e della Lega anche su questo argomento che possono essere determinanti su un aspetto che è dirimente per la nostra economia e per i nostri cittadini. Incrocia le dita l'Orevole Villarosa che garbatamente si è limitato a un sorriso, non si è ne sorridere ma si è limitato con garbo a un sorriso. Non mi piacciono i pronostici. Va bene, allora finisce qui la puntata di oggi di Transatlanti, io ringrazio davvero l'Orevole Giacometto e l'Orevole Villarosa. Ci ritroviamo con altri due ospiti venerdì prossimo grazie alla Verità Digitale e Autopia che ci ospita anche nei suoi studi. Buon fine settimana.